Questa è la mia lettera al mondo, che mai non scrisse a me. Tu sei sola nella tua ribellione, Miss Dickinson. Guardate quella divina creatura che profilo nobile ha, come un imperatore romano. Neroe? Speriamo sia altrettanto malvagio. E voi, Miss Dickinson, voi invece? E io cosa, signore? Non vi inginocchiate per offrirvi addio? No, signore, non mi inginocchierò. Come osi condurre te stessa in quel modo? Per amor suo, dolci amici cari, giudicate peneramente me. Grazie a tutti.